Tra critiche e boicottaggi prosegue in Sri Lanka il Summit dei Paesi del Commonwealth. Tutela dei diritti umani e riconciliazione con la minoranza tamila sono stati i motivi della defezione di alcuni paesi come Canada, Isola e Mauritius e India. E' su questi temi il monito del Premier britannico nel corso della conferenza stampa a Colombo. Allo stato dei fatti il governo si rifiuta di ammettere la necessità di un'indagine indipendente. Non lo hanno stabilito formalmente, c'è una commissione di riconciliazione nazionale che ha fatto delle buone cose, ma serve questa particolare parte di lavoro. E' una questione di interesse internazionale che perseguiremo con vigore. Cameron, che qui vediamo con la nazionale di cricket del paese, si è recato in visita nel nord dell'isola dove vive la minoranza tamil. L'indagine è indipendente per far luce sugli abusi e i crimini commessi dall'esercito nell'offensiva contro i separatisti delle Tigritamil nella primavera del 2009.